Penso alla pessima tendenza di identificare avversari o addirittura nemici, verso i quali praticare forme di aggressività, anche attraverso le accuse più gravi e infondate, spesso travolgendo il confine che separa il vero dal falso. Queste modalità aggravano la difficoltà di occuparsi efficacemente dei problemi e delle emergenze che i cittadini e famiglie devono affrontare giorno per giorno. Il lavoro che manca, pur in presenza di un significativo aumento dell'occupazione, quello sottopagato, quello sovente non in linea con le proprie aspettative o con gli studi seguiti. Il lavoro a condizioni inique e di scarsa sicurezza, con tante inammissibili vittime. Le immani differenze di retribuzione tra pochi superprivilegiati e tanti che vivono nel disagio. Le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti, con liste di attesa per visite ed esami in tempi inaccettabilmente lunghi. La sicurezza della convivenza che lo Stato deve garantire, anche contro il rischio di diffusione delle armi.